con questo tutorial vediamo come poter rappresentare una retta nel piano cartesiano ho scritto qui l'equazione di una retta e l'ho scritta in forma esplicita allora per disegnare l'equazione di una retta ho bisogno di individuare due punti perché ricordo che per due punti distinti passa una ed una sola retta allora io mi faccio una tabellina x y ricordo che la x è la variabile indipendente la y è la variabile dipendente vado a scegliere nella colonna delle x due valori in maniera indipendente cioè vado a scegliere due valori a caso ad esempio al posto della x vado a scrivere 0 allora significa che qui vado a sostituire 0 e allora 2 per 0 fa 0 quello che mi resta è meno 1 e allora significa che quando la x vale 0 la y vale meno 1 quindi questo è il primo punto poi scelgo un altro punto ad esempio potrei scrivere che x uguale 1 quindi ho assegnato al valore della variabile indipendente il valore 1 di conseguenza vediamo quanto vale la y al posto di questa x vado a sostituire 1 e quindi ottengo 2 per 1 2 meno 1 fa 1 ottengo due punti il primo punto è il punto 0 meno 1 lo posso chiamare a 0 meno 1 e il punto b 1 1 rappresento ora sul piano cartesiano il punto 0 meno 1 0 meno 1 vuol dire che la x vale 0 e la y vale meno 1 e allora il punto a è questo qui poi vado a rappresentare il punto 1 1 significa che la x vale 1 la y vale 1 e allora il mio punto sarà questo qui ed è il punto b quindi la retta di equazione y uguale 2x meno 1 passerà allora per questi due punti la rappresento sul grafico ed ottengo questo disegno allora vuol dire che la retta che ha questa equazione sarà rappresentata graficamente da un andamento di questo tipo consideriamo ora quest'altro esempio allora abbiamo questa retta di equazione y uguale meno x più 3 allora mi vado a fare una mia tabella x, y, x variabile indipendente y variabile dipendente scelgo due valori della x potrei scegliere il valore 1 e il valore 2 al posto di questa x vado a sostituire il valore 1 e allora otterrò meno 1 più 3 ed ottengo 2 allora significa che quando la x vale 1 la y varrà 2 quindi questo è il primo punto poi ho scelto il valore 2 allora al posto della x vado a mettere 2 e ottengo meno 2 più 3 che fa 1 ottengo allora il punto A di coordinate 1,2 cioè questo e il punto B di coordinate 2,1 cioè quest'altro ora vado a rappresentare A e B sul piano cartesiano considero il punto 1,2 il punto 1,2 è questo quando la x vale 1 la y vale 2 allora questo è il punto A poi individuo il punto 2,1 allora la x vale 2 e la y vale 1 e il punto sarà questo infatti x vale 2 ed è questo la y vale 1 ed è questo e mi da luogo a questo punto ora rappresento l'equazione della retta che passa per questi due punti ed è all'incirca questa qui allora questa equazione sarà rappresentata graficamente in questo modo vediamo quest'altro esempio ho la retta di equazione y uguale a un mezzo x più 1 mi faccio la mia tabella x, y x variabile indipendente y variabile dipendente scelgo due valori per la x il primo valore che scelgo per convenienza è 0 allora significa che al posto di questa x vado a sostituire 0 ed ottengo un mezzo per 0 che fa 0 più 1 1 poi potrei scegliere un altro valore siccome che qui c'è 2 a denominatore mi conviene andare a scegliere un numero che sia multiplo di 2 ad esempio potrei scegliere meno 2 andando a sostituire qui meno 2 otterrò meno 2 fratto 2 complessivamente questa quantità è meno 1 più 1 e quindi qui vado a sostituire 0 ottengo il punto A 0 1 che è questo e il punto B di coordinate meno 2 0 cioè quest'altro individuo sul piano cartesiano il punto 0 1 il punto 0 1 è questo qui e lo chiamo A individuo poi il punto meno 2 0 il punto meno 2 0 si trova qui ed è questo e lo chiamo B ora rappresento la retta che passa per questi due punti e all'incirca è questa facciamo un'osservazione supponiamo che uno avesse voluto andare a scegliere un altro valore della x ad esempio qui al posto della x andavo a sostituire 3 allora significava che qui andavo a scrivere 3 e allora ottenevo 1 mezzo per 3 3 mezzi 3 mezzi più 1 fa 5 mezzi allora vuol dire che qui andavo a scrivere 5 mezzi allora vuol dire che dovevo andare a individuare sul piano cartesiano il punto C di coordinate 3 5 mezzi questo punto deve necessariamente trovarsi su questa retta il punto C di coordinate 3 5 mezzi è all'incirca questo qui e lo vado a rappresentare dove la sua x vale 3 e la sua y all'incirca eccolo qui è 5 mezzi vediamo quest'altro esempio ho la retta y uguale a x e la retta y uguale a meno x che voglio rappresentare sullo stesso piano cartesiano ricordo che la retta y uguale a x è la bisettrice del primo e terzo quadrante mentre y uguale a meno x è la bisettrice del secondo e quarto ho bisogno comunque di due punti per rappresentare sia la prima retta che la seconda retta e inizio dalla bisettrice del primo e terzo quadrante mi faccio una tabellina x y al posto della variabile indipendente x sostituisco un valore ad esempio 0 e al posto di questa x vado a mettere 0 ottengo allora che y vale 0 scelgo un altro valore per la x ad esempio 1 al posto di questa x allora vado a sostituire 1 e otterrò y uguale 1 e quindi ho il punto A 0 0 e il punto B 1 1 il punto A 0 0 è questo e il punto 1 1 è quest'altro disegno ora la retta y uguale a x ora rappresento sempre sullo stesso piano cartesiano quest'altra retta mi faccio di nuovo una tabellina x y e scelgo al posto della x un valore potrei scegliere ad esempio sempre lo stesso valore e andare a mettere 0 allora al posto di questa x vado a mettere 0 y sarà uguale a 0 a questo punto scelgo un altro valore potrei scegliere il valore meno 1 e allora qui vado a sostituire meno 1 meno meno 1 fa 1 e quindi qui scrivo 1 ottengo il punto 0 0 che avevo chiamato A e quindi lo chiamo A 0 0 e poi un altro punto il punto meno 1 1 che lo chiamerò C meno 1 1 osservo poi che questa retta e questa retta hanno il punto A in comune quindi si dicono tra l'altro rette secanti il punto A 0 0 è questo allora avevamo detto che questo era A e questo era B ora dobbiamo andare a rappresentare il punto C che è meno 1 1 il punto meno 1 1 è questo rappresento la retta y uguale a meno x ed è questa qua vediamo ora come poter rappresentare casi particolari di rette rette fatte in questa maniera y uguale a 2 e y uguale a meno 1 queste rette sono delle rette orizzontali mentre x uguale a meno 2 e x uguale a 3 sono delle rette verticali per rette rappresentate in questa maniera non c'è bisogno di fare la tabellina ma è sufficiente fare questo tipo di osservazione y uguale a 2 è una retta orizzontale che passa sicuramente per la quota 2 e allora basta rappresentare una linea orizzontale questa qui rappresenterà la retta di equazione y uguale a 2 vediamo ora y uguale a meno 1 la retta y uguale a meno 1 sarà una retta che passerà per la quota meno 1 cioè è fatta in questa maniera e scrivo la sua equazione y uguale a meno 1 le rette x uguale a meno 2 e x uguale a 3 invece sono delle rette verticali la retta x uguale a meno 2 passerà per meno 2 e la vado a rappresentare è una retta verticale ed è questa scrivo la sua equazione x uguale a meno 2 poi ho x uguale a 3 è una retta verticale che passerà per la quota 3 ed è questa qui e anche in questo caso vado a scrivere la sua equazione x uguale a 3 quindi ricordiamo che se ho rette del tipo y uguale a un numero o x uguale a un numero quando ho y sono delle rette orizzontali quando ho x ho delle rette verticali quindi non è necessario utilizzare la tabellina vediamo quest'ultimo esempio ho una retta scritta in forma implicita quindi la prima cosa che vado a fare è andare a scrivere la retta in forma esplicita cioè y uguale a meno 3x più 2 cioè questa quantità e questa quantità le porto a secondo membro ora mi faccio la mia tabellina x y al posto della x scelgo un valore ad esempio 0 e al posto della x vado a sostituire 0 quindi meno 3 per 0 fa 0 il valore che ottengo per la y è 2 poi scelgo un altro valore scelgo ad esempio 1 e allora al posto della x vado a mettere 1 e otterrò meno 3 per 1 fa meno 3 più 2 meno 1 ottengo allora il punto a 0 2 e il punto b di coordinate 1 meno 1 rappresento ora 0 2 sul piano cartesiano il punto 0 2 è questo di punto punto a poi poi vado a rappresentare il punto 1 meno 1 il punto 1 meno 1 è questo qui ora posso andare a disegnare la retta che passa per a b quindi all'incirca questo tipo di andamento e con questo esercizio termino questo tutorial sulla rappresentazione grafica di una retta nel piano cartesiano grafica